Ha una laurea in economia aziendale e lavora da sei mesi per Decathlon, settore escursionismo. Lo sport è la sua vita, ha giocato per anni a basket, playmaker con il Cusbari, ma ora la sua passione è la bicicletta. Si chiama Roberto Cancellieri, ha 28 anni, ed eccolo qui, pronto ad affrontare su due ruote un insidioso viaggio nei Balcani, da Durazzo fino a Istanbul. Sono quasi 1200 chilometri, divisi in 13 tappe, Albania, Macedonia, Grecia e Turchia, civiltà e lingue diverse, asfalto, polvere, fatica, pioggia, vento, ma un unico messaggio di fratellanza, libertà e rispetto dell'ambiente. Il Comune di Bari lo ha adottato, o meglio, ha adottato la sua impresa come esempio di mobilità sostenibile. Il logo del Comune di Bari dov'è? È nascosto sotto la felpa perché stava piovendo. E qui. A chi dedichi questa impresa? A me stesso soltanto, solo soltanto a me stesso. Roberto ha caricato la sua bici, che ha anche un nome, Aurora, con precisione maniacale. Tenda, fornellino, pasta, perché ha detto che cucinerà ogni giorno, tonno e barrette energetiche, proteine e carboidrati per affrontare salite e sterrato. Niente GPS, né bussola, solo mappe e cartine geografiche. Se no, spiega ancora, non c'è gusto. Raconterà però la sua avventura giorno per giorno su Facebook, fino al 23 settembre, quando arriverà a Istanbul e invierà agli amici una foto dalla Moschea Blu. E già sta pensando la Norvegia, il suo prossimo obiettivo.